Il nostro spazio di approfondimento quotidiano. Venerdì 14 novembre, al 21, sarà a Foggia Marco Travaglio con il suo spettacolo E' stato la mafia, una delle organizzatrici esponza da manifestazione, la collega Alessandra Benvenuto. Benvenuto Alessandra, grazie di essere nostra ospite. Grazie a voi di avermi invitato. Uno spettacolo, solo uno, un appuntamento di due, appuntamenti molto importanti che ci si terranno qui a Foggia tra novembre e dicembre, fortemente evoluti da te. Fortemente evoluti perché la Perseveranza premia. In realtà ho cominciato un po' per caso a immaginare questi spettacoli qui a Foggia, un po' scherzando, poi l'ho presa fin troppo sul serio perché conoscevo gli spettacoli della Promo Music che hanno portato sul palco Marco Travaglio. Li conoscevo in tutte le edizioni perché in realtà ci sono state tre edizioni ed è un progetto che si è avviato addirittura sette anni fa. Questo spettacolo è stato portato non soltanto in giro per l'Italia ma anche in giro per il mondo. Sono stati anche a Ginevra e a Bruxelles. Le tre edizioni sono quelle che hanno avuto inizio con una prima edizione dal titolo Anestesia Totale, una seconda dal titolo Promemoria, una terza che è quella che avremo qui a Foggia che si intitola È stato la mafia. Era impossibile non interessarsi all'idea che fossero anche qui perché sono spettacoli prodotti da Marcello Corvino, dalla Promo Music. È un foggiano. È un foggiano, Marcello Corvino, emigrato a Bologna, un violinista, diplomato al Conservatorio di Foggia, che è emigrato a Bologna per mettere su questa attività imprenditoriale nel settore della cultura ed è stato premiatissimo per merito perché i suoi spettacoli, ripeto, vanno in giro per l'Italia. In particolare con questo spettacolo di Marco Travaglio c'è stato un record pazzesco nel 2009 in un teatro di Cagliari ci sono state 4200 persone. Questo vuol dire che è uno spettacolo che vale moltissimo e che era normale che ci si interessasse a portarlo qui. Non è mai capitato che nessuno si interessasse a farlo, non so bene perché. Certo è che appena ho tentato, non proprio appena ma quasi, appena ho tentato di coinvolgere qualcuno, in particolare imprenditori molto svegli, intelligenti e favorevoli al progresso della cultura di questa città, mi hanno aiutato, mi hanno dato una mano con dei contributi per le sponsorizzazioni e siamo qui, finalmente venerdì ci saranno Marco Travaglio, Valentina Lodovini, che è un'attrice molto nota, donna intelligente, oltre che molto prestante dal punto di vista fisico, e Valentino Corvino, che compone le musiche dello spettacolo dal vivo. Valentina Lodovini legge dei passi di brani di politici e intellettuali italiani che si prestano a favorire la buona politica, e quelli che sono stati sempre contrari alla simbiosi tra malaffare, malavita e politica, Marco Travaglio racconta della trattativa Stato-Mafia, così come è cominciata, nel 1992, e siamo giunti al final. È arrivata a fine giorni nostri, in pratica. Quello di venerdì è il primo appuntamento, perché poi il 20 dicembre c'è il secondo Le Cattive Strade. Il secondo Le Cattive Strade è una esclusiva assoluta, perché per la prima volta in Puglia, Andrea Scanzi è l'idiatore, con lui sul palco c'è Giulio Casale, che è un musicista che ripropone molti brani di Fabrizio De Andrè, ma soprattutto Andrea Scanzi è un giornalista critico, è un giornalista anche lui del Fatto Quotidiano, mentre Marco Travaglio è condirettore del Fatto Quotidiano, giornalista ormai di punta del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, che porta questo spettacolo in giro per l'Italia, per la prima volta in Puglia, ma ha avuto già enorme successo con un altro spettacolo su Gaber. Questa volta si tratta di una lezione spettacolo su Fabrizio De Andrè e ci si allieta con la musica e con la storia che riguarda un po' l'interpretazione e quello che c'è dietro la composizione dei testi e delle musiche di un grandissimo della nostra cultura italiana come Fabrizio De Andrè. Alessandra, hai detto che il tuo impegno è stato premiato anche grazie alla collaborazione di alcuni sponsor, di alcuni imprenditori che hanno creduto in te, che hanno creduto in questi due spettacoli. Sono rimasta molto felicemente sorpresa della reazione immediatamente entusiasta da parte di questi imprenditori. Vero che ho pensato a loro non a caso, però non hanno avuto nessun tipo di remora. Intanto, ripeto, si tratta di spettacoli di altissimo livello culturale. Dopodiché hanno voluto subito investire in questo progetto e siamo partiti con la programmazione e staremo qui per di più. L'entusiasmo è stato fino alla fine confermato perché lo stesso dottor Salatto, che ci ospita, ha detto che speriamo che si continui con questi progetti culturali. Accanto a me c'è l'associazione culturale Mamamà che mi ha inevitabilmente sostenuto in questo progetto, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, che materiali, che organizzativi, e che si sta occupando della vendita dei biglietti insieme a tutti i punti vendita del booking. Tu prima hai citato il nostro editore, il dottor Podito Salatto, che da sempre è molto sensibile alla cultura della nostra città. Ma è davvero così difficile fare cultura a Foggia? Ho detto più di una volta, per questa felice occasione, che si sta verificando, nonostante il momento di enorme crisi, da tutta una serie di punti di vista. Quello che mio nonno, che è stato primo sindaco di questa città, nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale, auspicava nel 1945. Lui diceva che aveva speranza che i dormienti si sarebbero svegliati, perché quello che sarebbe stato sufficiente, sarebbe stato anche questo in realtà per una ricostruzione dopo la guerra, cioè che piccoli possessori di capitali si unissero per il progresso, in quel caso materiale, della città di una ripresa, perché lui questo scriveva su Ricostruzione d'Auna, che era un quotidiano locale, ma che veniva pubblicato in tutta la nazione. Ma basterebbe poco, perché questo fa lo spirito imprenditoriale di una città. Se manca questo, si affonda nelle sabbie mobili. In questo periodo invece ci sono stati due ottimi segnali. Qualcuno potrà dire che non è sufficiente, ma io credo che sia un ottimo inizio. Un primo esempio è la fondazione Apulia Felix, presieduta da Giuliano Volpe. Questa nostra iniziativa, che riguarda la promozione di questi spettacoli nel nostro territorio, credo che sia un ottimo indizio di entusiasmo nei confronti della cultura. Per il resto non c'è dubbio, e non bisogna mai dimenticarlo, che con la cultura si mangia, e la cultura è altrettanto vero che rende liberi. Bisogna stabilire quali sono i metodi e quali sono gli obiettivi, e poi si può realizzare tutto. Niente è impossibile. Tutto non è semplice, ma niente è impossibile. Però poi abbiamo persone come Corvino, che sono costrette a espatriare per avere successo. È vero, è vero. Marcello aveva un progetto di tipo diverso, doveva essere necessariamente un progetto a largo raggio, perché non poteva realizzare quel tipo di spettacoli che presumono e richiedono tour in giro per il mondo, in giro per l'Italia, rimanendo un po' abbarbicato in questa città. In realtà Bologna è stato un trampolino di lancio, anche perché lui è andato lì anche per studio e per lavoro, e poi di lì si è trovato a lanciare queste sue idee su tutto il territorio nazionale, e il successo gli è stato assicurato. Il talento premia, ma soprattutto la perseveranza, e la voglia di fare cultura. Il 14 novembre iniziamo con Travaglio, con è stato la mafia. Giornalista che può piacere o non può piacere, però è uno che racconta cosa avviene in Italia, soprattutto ha raccontato, in pratica lo spettacolo prende un po' le mosse dal suo libro su questa trattativa Stato-mafia. Questo è uno spettacolo che, come dicevo, racconta i dettagli della trattativa Stato-mafia cominciata nel 92. Marco Travaglio, come sempre fa, e come sempre ha fatto nei suoi spettacoli, ma anche in occasione di moltissime presentazioni di libri che ci sono state da quando è ormai diventato famoso, racconta con fatti drammatici in tono tragicomico, per cui purtroppo, direi, anche le risate sono assicurate. Il problema è questo, che molti ritengono Marco Travaglio poco simpatico istintivamente, e probabilmente hanno le loro ragioni. si confonde però troppo spesso la consistenza della professionalità di un giornalista con quello che poi lui è costretto a dire per il mestiere che esercita. Voglio dire, non credo che è vero pure che un medico dovrebbe, insomma, ci piacerebbe di più se fosse simpatico, così come un dentista, così come un commercialista, però lui fa semplicemente il suo mestiere. È difficile anche riconoscerlo, perché, torno a dire, spesso si rende molto antipatico a molti, e non è certamente dolce in quello che dice, o rispetto alle persone che affronta e che attacca, ma lui racconta fatti, e non si può dimenticare che raccontando dei fatti, i fatti spesso sono gestiti, ma così è, perché siamo uomini, sono gestiti, e si riferiscono a responsabilità umane, e allora si trova necessariamente a dover attaccare qualcuno senza avere remore di nulla. E' anche vero che si confonde spesso, e ne ho sentite davvero di tutti i colori, la sua posizione politica. Non faccio altro che molto semplicemente citare quello che lui ha detto di se stesso qualche anno fa in un'intervista rilasciata a Claudio Sabelli Fioretti, in cui lui precisa che in paesi diversi, cioè lui certamente voterebbe persone che si avvicinano a posizioni di rappresentanza senza dubbio vicine alla destra, di rappresentanza politica. In Italia lui penserebbe istintivamente a fare riferimento a persone come Einaudi, Cavour o Montanelli, che sono tutti morti. Per cui la destra che lui conosce e in cui si riconosce il suo essere liberale di destra non ha possibilità di far capo a nessuna posizione in questo momento in Italia. Risultato? Ha chiesto asilo, con tanto di virgolette, politico alla sinistra attuale. Non è un caso che il vice direttore sia il condirettore del suo giornale, sia Antonio Padellaro che è l'ex direttore dell'Unità, e che Ettore Boffano, o Boffano che dir si voglia, è il caporedattore, persone di talento straordinario, è anche stato caporedattore di Repubblica. Insomma, tutti i giornali certamente non di destra, ma sono contingenze del tutto irrilevanti dal punto di vista politico, diciamo così, strettamente politico. Alessandra, siamo in chiusura, ricordiamo gli appuntamenti. Venerdì, il primo con Marco Travaglio, venerdì 14 novembre. Venerdì 14 novembre, devo però ricordare, anche questa è una caratteristica antropologica del Foggiano, si meravigliano che si debba pagare un biglietto, esistono biglietti con prezzi da 15 euro a 25 euro, a seconda che si preferisca essere più vicini alla Valentina Lodovini e Marco Travaglio e Valentino Corvino, oppure più lontani. Il botteghino si aprirà dalle 18 venerdì, esattamente il giorno dello spettacolo. L'altro spettacolo, così come ci sono prevendite nei punti vendita a Booking e a Loda Teatro, e invece lo spettacolo di Andrea Scanzi è previsto per il 20 dicembre e si intitola Le Cattive Strade. E tutti e due nell'auditorium? L'auditorium della Facoltà di Economia che ci ospiterà grazie agli sponsor. ha molti posti che possono ospitare parecchi spettatori, quindi vi aspettiamo numerosi e certamente non ve ne pentirete. Altri progetti? Altri progetti? In verità ce n'è già uno nel cassetto, ma diciamo che lo comunicherò per scalavanzia prima al dottor Salatto, perché lui mi ha auspica una continuazione del progetto, gliene parlerò, vediamo se è d'accordo, ma credo di sì. Grazie Alessandra, è benvenuto. Grazie a voi. E grazie a voi che ci avete seguito. L'altra campana torna come di consueto domani. Arrivederci. E suele la campana! Ehi!